eccoci eccoci qua ben arrivati come promesso oggi volevo vedere insieme a voi uno dei vari metodi con cui io realizzo il naso come spesso mi dite che il naso vi crea un po qualche qualche problema allora io volevo farlo insieme a voi in due modi uno vedere come fare proprio il naso da solo secondariamente come costruire cioè come gestire il naso nel momento in cui non avete solo un pezzo di pasta di zucchero ma avete un un viso che state che state realizzando ok quindi volevo vedere tutto questo insieme vi giro così cominciamo perché poi ho un corso e devo andare via ok aspettate che come al solito quindi come vi volevo dire caldo a parte no non è caldo è umido oggi volevo vedere con voi come realizzare un naso ovviamente come dico sempre durante i miei corsi diciamo che ci sono tantissimi metodi per realizzare un naso ok oggi ovviamente vi farò vedere uno di questi metodi come dico sempre non esiste una tecnica universale che vada bene per tutti ognuno di noi ha il proprio modo di lavorare e quindi quello che io cerco di fare durante i miei corsi soprattutto quelli un po più tecnici come può essere il modeling viso o il modeling corpo è quello di insegnarvi diverse tecniche in modo che poi come si dice in modo che poi voi possiate scegliere tutte le cioè quella che più si adatta alle vostre alle vostre necessità allora vediamo appunto uno dei modi per realizzare un occhio un naso allora la prima cosa da fare è segnare la linea degli occhi ok perché quella comunque la dovete segnare allora se il viso è abbastanza grande vi potete anche permettere di lavorare semplicemente con le mani in questo modo innanzitutto un po di cmc perché sennò ciao annamaria allora la mia gomma lacca si quindi non ho capito cos'è che volevi sapere della gomma lacca pompea perdonami ma mi è salita sulla notifica e non ho non ho letto io intanto proseguo sul sul nasino ok come vedete io sto semplicemente andando a modellare con le mani né più e né meno per cercare di crearmi un triangolino ok poi anche lì che tipologia di naso dovete fare cioè dovete fare un naso più realistico un naso più stile cartoon a seconda chiaramente di quello che voi dovete fare potrete andrete a modellare in maniera differente io mi prendo i soliti pennelli da modeling e da pittura quindi abbiamo cauciù silicone e pennello da pittura col pennello in cauciù andiamo a segnare le aspettate fatemi fare una cosa detto questo noi andiamo a vedete a creare praticamente le narici una e due in questo momento non vi preoccupate se sta venendo stile maialino ok poi con il pennellino da pittura in questo momento l'ho un po sporcato con la cmc perché ripeto comincia a fare caldo e quindi la pasta di zucchero ovviamente un pochino ne risente in questo modo andiamo a creare cominciamo a creare il setto nasale così e pian piano andiamo a rifinire guardiamolo di profilo vedete come praticamente profilo quasi non ne abbiano quindi dobbiamo andare a creargli la punta possiamo o con il manico del pennello oppure proprio con il pennellino ecco qua andiamo a creare anche la punta qua sotto in questo modo e controlliamolo sempre da tutte le angolazioni possibili mi raccomando quindi così guardate che nariccione grosse che le son venute non ci piacciono quindi non facciamo altro che andarle a rimpicciolire rimpicciolire una e anche questa la rimpiccioliamo semplicemente così ok uno due ripeto dipende anche molto da che tipologia di naso voi state realizzando ok ora non vogliamo fare un naso particolarmente realistico ma neanche un naso eccessivamente cartoon come può essere quello delle principesse disney in cui comunque il il come si chiama il naso è proprio appena appena accennato con il pennellino sempre questo qua in cauccio rifiniamo vedete guardo sempre da tutte le angolazioni mi raccomando è importante questo così ovviamente in un corso online non è proprio come come una diretta nel senso voi vedete quello che faccio io ma io posso vedere quello che state facendo voi quindi diventa per me assolutamente possibile e molto più facile andare a correggere il vostro lavoro direttamente in in fase di di corso ok ricordo che se siete chiunque fosse interessato ai nostri corsi online può scrivermi sono disponibili anche corsi online in lingua inglese ed eventualmente in lingua francese e in spagnolo quindi sono a vostra totale disposizione spesso mi chiedete che cosa si può fare online a parte la pasticceria e l'aerografo sono onesta per il resto online è praticamente possibile fare tutto quindi non vi non vi preoccupate che sia modeling viso modeling corpo progetti decorazioni in genere pittura basso rilievo ghiaccia io sono a vostra assoluta disposizione ok dopo di che da qui in avanti è solo un decidere che tipologia di naso dovete realizzare ok l'importante è che stiamo attenti a qualche piccola regola che è che ad esempio la forma del naso sotto è sempre abbastanza importante e soprattutto è un ottimo campanello d'allarme per renderci conto se stiamo facendo un naso fatto bene o no ok perché magari non non ce ne rendiamo conto subito in questo modo un naso sotto